Edizione straordinaria, 101 anni per la riapertura del Principe di Piemonte Una serata indimenticabile in stile grande Gatsby fra Rolls Royce, Charleston e Saks ha segnato la riapertura del Principe di Piemonte di Viareggio l'hotel a 5 stelle, icona del Liberty, ha festeggiato i suoi 101 anni e soprattutto il termine della maxi riqualificazione interna che ha ridisegnato tutti gli ambienti, puntando sempre più sul lusso e sull'eccellenza Grandi interventi strutturali per tutte le camere, per la spa, per la piscina, per i ristoranti e i bar quindi il Principe di Piemonte ha un nuovo DNA praticamente però vuole essere comunque legato alla storicità, alla reputazione che ci portiamo indietro da 101 anni quindi anche la serata di stasera è una celebrazione che parte da lontano, dal 1922 quando la struttura è stata creata dalla prima pietra fino ad oggi 5 piani, 80 camere, di cui 32 suite ultimo tassello di un restyling durato anni sono le suite presidenziali, vero gioiello di interior design questa è la master bedroom e la particolarità di questa stanza sono ancora una volta i paramenti murali sono in seta, dipinta a mano questa stanza ha un suo bagno dedicato, molto grande con una spa privata ad uso esclusivo e completamente in marmo rigenerato anche il suggestivo roof luogo perfetto per ammirare dall'alto tutta la Versilia una serata omaggio alla città voluta dalla nuova proprietà del gruppo Nesti che si è chiuso con uno spettacolo pirotecnico che ha ammaliato i circa 400 selezionatissimi invitati grazie 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 a tutti.